Per vincere è importante non porsi il problema di vincere, per avere successo è importante non porsi il problema di avere successo, perché in quel momento non sareste mai degli innovatori, in quel momento non esprimereste mai completamente le vostre capacità e le vostre risorse, sareste condizionati dalla volontà di avere successo, no, il vostro obiettivo è far bene le cose, avere questa cultura del perfezionismo, farle al massimo delle vostre capacità.